Stratio, ultima frontiera, queste sono le giocate del podcast Fumbleverse of Madness, volto ad esplorare strani, nuovi mondi e nuove possibilità dalle campagne di Fumble. Per dire minchiate che nessun uomo ha mai detto prima. Fumbleverse of Madness fa parte del network Fumblecast di cui fanno parte. Fumble, side quest, terremote e poi c'è feeling forward e quindi vuoi multicassare bardo? Invox ludica! Piu, piu, piu! Allora, prima facciamo che... Cominciamo! 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 E vorrei dire che questa sera gioca con noi... Rullo di tamburi! Rullo di tamburi! Rullo di tamburi! Perché gioca con noi Alice? Perché noi siamo estremi sostenitori del mettere una borsa conservante dentro una borsa conservante, cioè fare giocare Alice con manto! Giusto! L'idea era questa! L'estate è capitata gran poche volte! Esatto! L'ultima è stata forse la Passione della Passione. Che comunque il suo senso ce l'aveva. È stato la Passione della Passione, la trecentesima puntata di Fumble dove abbiamo fatto lo speciale della Terra del Signore degli Anelli. E forse anche quella di Blades dei Pirati. Pirati... Ho un poco ricordo. Allora, io ho la memoria pessima quindi non mi sbilancio. Però Blades so di non averlo giocato. Sai di non averlo giocato! Sì, perché era Jacopo. È già un buon inizio. E un altro. C'è Aria. Ma comunque ci siamo impegnati per mettere insieme queste due personcine squisite per vedere quel lato della pazzia elevata al quadrato. E stasera... Questo programma non sponsorizza il cannibalismo delle personcine squisite. Ma sponsorizziamo gli psicofarma. Ecco, bravo. Eh... Che sapere di mani. Io vengo dalla farmaceutica quindi sponsorizzo Big Pharma, non rompe di coglioni. Oh no, complotto. No, è gomblotto. Ah, gomblotto, gomblotto. Con la gomblotto. Giochiamo qua. Stasera giocheremo al sistema di Laser and Feelings che non mi ricordo dovrebbe essere stato scritto da... Se vuoi te lo vado a cercare io mentre tu spieghi che situazione giocheremo. Esatto. Sì, ci sta, anche perché non lo trovo. Sto guardando la pagina Laser and Feelings, ma non lo trovo. Allora, questa sera giocheremo uno scenario un attimo riadattato di Laser and Feelings. Non troppo perché non saremo, come dice il gioco, la USS Raptor, ma saremo la USS Carity, cioè una nave ospedale. Charity volevi dire. No, la mia si chiama Carity perché sono italiano. Con la K, ok, va bene. E' gestita da Coboldi. Certo, con la K. Comandante, dove dobbiamo andare questa sera? Cioè da Coboldi di Star Trek parliamone perché è una bruttissima immagine. Certo. Comunque, meraviglia. Non sarebbero credibilissimi. Come dice comunque il gioco di Laser and Feelings per cui poi ci seguiamo il filone del gioco, il capitano Darcy è stato sopraffatto dalla strana entità psichica nota come qualcos'altro, lasciandovi a cavarvela da soli mentre recupera le forze in una capsula medica. In una capsula? Medica. Ah, ok. Ho capito il nome di una marca del caffè, cioè... Una capsula. Sì, la capsula. La capsula del caffè. Ah, ok. E' dentro una capsula del caffè. E' la parte divertente di questa nave ospedale di emergenza, perché come vi ho condiviso la nave è molto ridotta, non è una nave ospedale enorme come si può pensare come quella della federazione. Il suo problema della nave che ho creato è che ha un'unica capsula medica con dentro il capitano. Ok. Ok. Allora, come si chiama la nave, hai detto? Carity. Ah, esatto, cari. Con la caffè. Scusa, ho già rimosso. Esatto. Va già cancellato tutto, nel dubbio. E comunque, il creatore di Lasers and Feelings è John Harper. John Harper, bravo, non l'ho dimenticato. Il creatore della sessione di stasera è ispirato e basata la storia sulle idee di mia moglie. Quindi preparatevi, perché la medesima che aveva scritto... Cioè, una volta è andata bene, quindi... È andata bellissima, però è una bella botta nello stomaco. Eh... Vabbè, ma questa non ha lo stesso intento, dai. No, 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 no. Io non so io. Questa è horror. Sappiate per voi che siete da casa... Questa non è horror. ...che ascolterete da casa o anche dalla macchina, eh. Ascoltate... Anche per voi che siete da casa, in macchina, tal doculista, tal... Per voi che state ascoltando, la nave assomiglia un sacco alla USS Ritos. Se non sapete che cosa è la USS Ritos, siete delle volte persone e noi non ve lo diremo. Hai detto Ser Ritos o Burritos? Ser Ritos. No, no, è Ser Ritos. Scusa. Credo che l'assonanza fosse voluta dal creatore della Lower Deck. Eh... Allora... Si comincia creando i personaggi. Mmh. In realtà si comincia lanciandomi il manuale, perché non l'ho ancora visto. Te lo esco subito. Grazie. Grazie. Allora, comunque, essendo un gioco da one page, è abbastanza veloce creare i personaggi. Per cui, scegliete uno stile per il tuo personaggio. Alieno, android, pericoloso, vincente, intrepito, scaltro, sexy. Scegli un ruolo per il tuo personaggio. Dottore, delegato, ingegnere, esploratore, pilota, scienziato o soldato. Essendo una nave medica, esploratore si può intendere, eh? Perché è comunque una nave medica d'emergenza, quindi è applicabile anche qua. Scegli un numero da 2 a 5. Un numero elevato significa che sei più bravo con i laser. Tecnologia, scienza fredda, razionalità, calma, azioni meticolose. Un numero basso significa che sei migliore nei sentimenti. Intuizione, diplomazia, seduzione, azioni sfrenate e passionali. E poi date, ovviamente, un nome al vostro personaggio. Ok. Quindi, comincerei da questi quattro punti. Almeno, abbiamo una beige. Ok, mi avete citato Passione della Spassione, che è uno dei giochi che giocheremo prossimamente. e farò un personaggio alla Passione della Spassione. Sappiatelo. Cioè, farò il medico quello schiantatope, ma sarà un alieno orrendo, quindi lui nella sua testa è un super dottore schiantatope di manto, ma in realtà... Schiantatope di manto! Spulciatope. Ok. Ok. Quindi, Chris, abbiamo il alieno dottore. E poi devi scegliere il tuo numero. Due. Due. Ok. Cioè, lui sarà tutto in seduzione, passione. Quindi sarà il medico perfetto. Eh... Anche ho deciso. Al nome pensaci con calma. Romeo. L'ho già visto? Ah... Alieno Romeo. Ah, proprio. Ermeio del Colosseo. Ok. Arriva dal pianeta Alfa. Ah... Che testezza. Ah... Dopo questa, grazie per averci ascoltato. Sei fortunato che ho staccato la soundboard, se no te lo mettevo il suonino. Ditemi, ditemi chi va. Vossa produzione. Vado, vado io. Allora, io ho scelto Android pilota con tre. Quindi è un androide che va sui sentimenti. E il suo nome è 42. Oppala. Bello. Oppala. È un po' depresso magari. Oh, bello. Sì. Mi sembra proprio di sì. Passo due. Domanda, si possono fare le stesse cose o devono essere sempre diverse rispetto agli altri? Per me potete essere tutti uguali. Io ti dirò. Allora, androide. Sapevo che beccavi l'android. Eh, va bene. Stavo aspettando, eh. Eh sì. Di vedere come andavano. Androide. Dottore. Ok. Con il numero, in realtà vado sul quattro. Ah. Ok. Potrei fare quattro e mezzo, sarei più contento, però va bene. Non vado nel dettaglio. Poi ti faccio tirare un secondo dado e dividi per due, eh. Ok. Eh. Giusto. Bellissimo. Quattro punto otto sarebbe. Che cazzo. Il qui, eh. Il nome, invece, è la risposta. Cioè, scritto proprio tutto attaccato la risposta. Esatto. Esatto, esatto. Io l'ho scritto tutta ristaccato. Siete già due dementi, eh, voi due. Io pensavo di essere molto demente, ma guarda che cosa avete già fatto. Io ho paura. Vai, Dico. Ho dato a voi due per vedere su che strada potevo buttarmi, eh, quindi. Secondo te. Vai. Io invece avevo pensato a un pericoloso, nel senso che era un ex tipo minatore di qualche asteroide o roba del genere, quindi pericoloso esploratore, quattro, che si chiama TNT James. Ma TNT ha la Veneta o TNT? In che senso? Ah, TNT. Ah, TNT. TNT. TNT, TNT. Sì, dai. Eh, potrei chiamarlo con quell'accento lì. Vai, TNT, James. Aspetta, mi lo scrivo con le minuscole. TNT, James, come l'hai detto, suonava un pochino più alla Bresciana, te lo dico. Oh, TNT. C'era quella violenza dentro. Chiedo scusa a tutti gli ascoltatori che per la mia mancata, com'è che si può dire, il mio mancato tato di dizione. È una cosa per cui la gente ci ascolta molto, per la dizione. La dizione. La mancanza di tato. La gente ci segue per la profondità delle trame e per la dizione. Ma guarda, io anni fa... No, dipende cosa, la profondità delle trame ce l'abbiamo, dai. Perché ne abbiamo fatta una con una profondità di trame. Dove è comunque c'è? Io non dico dove, ma sono scottato ancora da anni che per giocare mi ho detto, eh, ma si sente che sei veneto, sarebbe meglio che non partecipassi. Non dico dove... Carognata. Ecco, però... Che carognata. È una realtà che conoscevate anche voi sicuramente. Fumbleverse of Bethes valorizza le localizzazioni... Le minoranze. Le minoranze etniche. E le cadenze. E le cadenze. Chris, com'è che si chiama tuo personaggio? Romeo. Ah, Romeo, ok. Alice, ho mancato totalmente il tuo PG, scusa, è un androide? Androide pilote... Pilota? Pilote! 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 Che si chiama 42. Ok. Manca solo da scegliere i due punti di forza della vostra nave Caritas. Quindi, veloce, agile, bene armata, scudi robusti, sensori avanzati, dispositivo di mascheramento... Caccia. Caccia non so che... Ha delle... Probabilmente ha delle navette da attacco. Ah, ok. Sono i caccia, non la caccia. Pensavo fosse una muta di cani, guarda. Ma devono essere per forza questi i punti di forza. No, ma figurati, ma quando mai? Può esserci dentro una spa. Aspetta, bisogna chiedere nel reame della follia. Una spa di benessere o una società per azioni? Una società per azioni di benessere. Di benessere. Cioè, nel senso alla fine è Eccarity. E quindi c'è, non so, delle saune, una zona delle terme, qualcosa... È una nave america, non vedo... Non vedo fare una piega. Oh mio. Quindi ok, una SBA... Come mi difendete alzendo la sauna. È una nave medica, già che proprio ci sono. Io faccio la spa, eh. Esatto. No, no, io ho scritto la spa. L'SBA di benessere. Guarda che da qua le ambulanze col bagno turco è un attimo, cioè... Nel senso... Allora... Però aggiungerei... È una SBA... È una SBA... È una SBA Star Trek, quindi molto inclusiva. Certo. Non è sicuramente bagni... Cioè, nel senso... Non esiste... Sì, ma come... Come in Svizzera e in Austria, cioè nel senso si sta... Certo. Nudi, sì... È libera a tutti. Romeo ci sta un sacco. Sto immaginandomi io e i miei circuiti in versione Star Trek, perdonatemi. C'è troppa umidità. È come essere in pianura padana, c'è troppa umidità. Oh, signore. Beh, concedetemi almeno una caratteristica che abbia una valenza se incontriamo delle altre navi, tipo il dispositivo di mascheramento o gli scudi robusti. Esatto. Beh, essendo una nave medica, tra virgolette, io mi immaginavo gli scudi robusti, cioè... Ci sta. Mai non saremmo offensivi, ma ci difendiamo. Ok. Dopo, in caso di arresa, contrattiamo con... Ma noi abbiamo la SBA, quindi... Cosa? Pensa che avrei detto dispositivo di mascheramento e faceva finta di essere una nave di quelle... Mercantili? No. Ma pensavo di quelle tofte. Quelle che vendono bussando anello per anello. Possiamo proporle la nostra serie nuova di... Salve, ha cinque minuti per parlare della SBA. Esatto. Stiamo già degenerando. Ok, visto che stiamo già degenerando... Con già paura. Ora che abbiamo creato... Anche un problema? E? Dobbiamo già creare un problema, cioè decidere un problema. Scegliete anche un problema. No, no, il problema l'ho già deciso io, che vi avevo detto che è l'unica capsula medica e dentro c'è il capitano. Ah, ok, certo. Perché tanto ora quando inizieremo capirete perché. Ok, vabbè. Quindi, come si fanno le prove? Se ho capito bene è super semplice. Quando fai qualcosa di rischioso lancia un D6 di base. Poi aggiungi un D6 se sei preparato e un D6 se sei un esperto. In base al ruolo, certo. Esatto. Tecnicamente, se ho capito bene, più si confà sulle tue, alieno, dottore, pericoloso, esploratore, più aggiungi i dadi. Più puoi aiutare... Se mi ricordo bene era... Sì, è un D6. Eccolo qua. Se vuoi aiutare qualcun altro che sta tirando, di come farlo, che se ha senso gli dai un D6. Ok. E allora, se stai usando laser, quindi scienza e ragione, dovrai tirare sotto il tuo numero. Mhm. Se stai usando i sentimenti, interazione e passioni, dovrai tirare sopra il tuo numero. Più successi fai, meglio è. L'assunta che poi dice il regolamento, quindi... Zero... Scusate, è partito un suluro fotonico dal mio telefono. Eh... Che cazzo è? Zero è... Un fallimento, in pratica. Uno è un successo, che ce l'hai fatta con un pelo, quindi il successo ma. Due è il successo normale, tre è il critico. E se fai esattamente il tuo numero, hai i sentimenti laser. Guadagni una consapevolezza particolare su ciò che sta succedendo. Fai una domanda al GM e lui ti risponderà onestamente. Ok, questi erano il numero di successi, quindi. Nessun successo, un successo. Cioè, se fai meno, non meno o uguale, ma meno o più. Meno o più. Se fai uguale è laser and feeling che è un... Giustamente. È più una realizzazione. Cioè, mi potete fare una domanda e io devo rispondere. Certo. Ok. Iper-sulto, poi giochiamo come al solito, che almeno ci capiamo. Eh... Condividi, lì c'è la stanza per i dadi? No, già fatto. Già fatto? Scusate. Sì, ce l'ho. Iper-efficiente, come sempre. Comandi. A me invece si è bloccato il PC. Ah no, eccolo, siamo salvi. Allora, l'ultimo ricordo che avete prima di svegliarvi ognuno di voi è che stava succedendo qualcosa di strano. Non avete ben capito che cavolo è successo. Sapete solo che ha cominciato a suonare l'allarme rosso all'interno della nave. E per un qualche motivo avete perso i sensi. Vi risvegliate tutti all'interno dell'infermeria. Ah ok, l'ha fatto. Vi risvegliate tutti all'interno dell'infermeria. e siete distesi su un lettino. Dico siete perché ci mettete poco a capire che girando la testa non siete soli. E capite che siete voi tutti. Voi che vi conoscete. Io intanto io alzo la testa e dico Oh, che distegno essere su questo lettino da solo. Oh, ma la risposta siete ferito? Ferita o? Ferito o a? Che fa, tocca? Non ho mai capito il suo genere. Ma ha un genere? Lei, la risposta? Io ho un genere, ma il mio genere deve ancora avere una risposta. Siete ferite? Siete feritei? Ma no, non siamo feriti. Ma sono tutte queste domande appena svegliate. Sembra... Sembra sentire la mia ex moglie. Tianti sta parlando con me. Stia buono un attimo. Sto parlando con loro. Sì, eh... Dottore, le visioni? Romeo, qual è il tuo problema? Ah... Che non puoi darmi l'amore che vorrei da te. Ah... E che non posso curarti come vorrei io. Eh... Dottore, mi perdoni, ma ha preso la sua dose quotidiana di broburo? Oggi... Vieni a darmi l'amore, tu. La risposta... No, non l'ha presa. La risposta è non l'ha presa. Appena siete un attimo coscienti e cominciate a parlare fra di voi, vi accorgete poco attimi dopo che siete legati al lettino. Oddio. Mi piace. Dottore, non mi sembra una pratica consenziente. Non abbiamo detto sì, lo vogliamo. Esatto. Mi piace lo stesso. Non ho firmato il modulo A38. Neanche il 42. Peraltro, è vero. Sì, esatto. Neanche il 42. Non abbiamo accettato i cookie. Eh... E nei legacci. TNT, lei... Faccia qualcosa per liberarci oppure abusi di noi. La seconda no. Se proprio abusi del dottore. Oltre può abusare da solo. No. Dovrei avere una fialetta di qualcosa per corrodere queste cose che ci tengono legati. Eh... Eh... Un attimo di domanda. Ma i legacci sono legacci? Che tipo di legacci sono, signor? Cigliumini, signor narratore. I vostri legacci sono dei legacci stile di cuoio di quelli che si mettono ai lettini quando dovete trattenere un paziente. Voi, dottori, lo sapete ben bene. E si mettevano secoli prima. Esatto. Che in Trek non esistono. Cioè, nel senso, ci sono quelli automatici che si autogenerano nel lettino. O a dir molto quelli in microfibra con il classico velcro che sarà un'invenzione che non tramonterà mai. Avete ragione, ma qui ci sono delle cose di cuoio. Perché c'è la spa e quindi è un po'... Giusto. O qualcuno fa dei giochi strani che c'è i legacci di cuoio. Dottore Romeo. Li hanno presi dalla mia stanza. Dottor Romeo. Li hanno presi dalla mia stanza. Qualcuno ha frugato nella mia stanza e non me l'ha detto. Esatto. Mio caro Romeo, tu sai che al massimo hai un paio di questi attrezzi, non per tutte e quattro i letti. Io ho quattro arti superiori. decido io quanti letti ho. Non mi imponga. Non mi dica quante malette ho. Arredo io il mio studio in base alle mie esigenze corporali. Cioè nel senso quante braccia hanno. Esatto, ognuno ha le sue necessità. Allora, io mi sono stancato di gente che chiacchiera perché qui nessuno fa niente. E se nessuno fa niente vorrei essere libero. Esatto, io vorrei provare con qualche fialetta che ho in tasca magari di nitrato o qualcosa da ex minatore di far cedere i legacci di cuoio. Ok. Cuoio, cuoio velluto e visone. No, visone. Visone. No, no, è cuoio. No, no, è cuoio. È cuoio, cuoio. È cuoio, cuoio, wow. È scaramucchio. Cuoio, cuoio, cuoio. È quelli cuoio, cuoio che dicevate ma questi non si usano dal 1900. È quelli. È cuoio, cuoio. È cuoio, cuoio. Bene. Ed è un'assurdità per voi. Sì, avete detto? Anch'io, anch'io in do cuoio cuoio. Qua che l'aspettavo. Eh, dottore, la prego, se insisti così dovrò chiedere al computer automatico di iniettarle la sua dose doppia. Ma se noi siamo qui, chi è che sta pilotando la nave? Il capitano? Il capitano? Il capitano. Il pilota è lui, ei. Ma anch'io sono un pilota. Eh, appunto. Sono il co-pilota. Il pilota è lui, ei. Eh, ma è co. È co? No, no, puoi essere pilota-pilota, eh. Pilota-pilota, ok. Puoi essere benissimo pilota-pilota. Eh, allora... Sono il pilota automatico. Mi viene in mente quello dell'aereo più pazzo del mondo, quello che mi chiede. No, 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 che già stiamo andando su quella direzione lì. Se mi chiami quello... Basta, non ce la facciamo più. Io effettivamente vorrei, non so se devo fare una prova, vorrei liberarmi versando, rompendo una fialetta, qualcosa che ho. Ok. Mi sembra una prova di laser. Sì. Quindi... Tiri pure. Devi fare sotto o pare alto numero. Ok. Ma il fatto di essere preparato, esperto, cosa vuol dire? Cioè che è tipo i tratti, c'è una cosa che... Esatto, il numero di dadi che tiri. Cioè, allora, in questo caso io ti direi tira pure tre dadi perché ci può stare... No, forse è pericoloso. Esploratori in questo caso non stai esplorando. No, infatti è pericoloso perché potrei farmi male, potremmo farci male. Ok, due. Due di sei. Devo fare meno di quattro. Sì. Vedi, ok. O quattro. Tre o quattro. Ok. Hai un successo e uno invece è laser in feelings. Valgono tutti e due. Guarda, io ho consapevolezza. Quindi ti puoi farmi una domanda e io ti risponderò onestamente. Sono domande che da metagioco, domande da personaggi. Guarda, qui dice... Fa degli esempi che c'è... Cosa provano davvero? Chi c'è dietro a tutto questo? Come potrei spingerli a? A cosa dovrei fare attenzione? Esatto. Qual è il modo migliore per... Cioè proprio... La consapevolezza sulla scena. Sì. Sulla situazione. Noi in realtà in questa stanza siamo stati... Beh, presumo siamo stati legati, ma c'è un intento di sabotaggio, qualcosa del genere, o è una specie di autoconservazione nelle situazioni in cui ci troviamo. Cioè, vuoi capire di più perché vi hanno legato? Non vi chiedete cosa stavo pensando che... Ti stavi chiedendo se ci siamo auto legati. Anche, anche. Cioè, sembra stupido, però... Cioè, se qualcosa... Magari non ci ricordiamo, però per... Che non so... Auto... Salvataggio, auto... Auto qualcosa... Allora... Per... Al momento hai un po' poche informazioni per essere illuminato. Ok. Però, l'unico ragionamento che puoi capire... Alla stanza è buia? Sì. No, no. Alla stanza è illuminata. Ma lo stavo per dire io. Lo stavo per fare io. Ma ho detto, no, fa schifo, non la faccio. Eh, ma fa schifo, io devo dirla. Il mondo è quello. Ok. Scusa. No, no. Ma io l'ho capita ora. Quindi... No, scusate voi che state ascoltando. Esatto. Era talmente brutta che l'ho capita due minuti dopo. Allora... Quello che riesci a capire da questa situazione è che... Se c'è l'allarme rosso in corso, vuol dire che c'è una minaccia. Se era una minaccia esterna tipo nave con siluri, a quest'ora sareste già esplosi probabilmente. Certo. Perché se avete perso i sensi, avete avuto il tempo di riprendervi senza intervento medico, l'avete fatto col corso naturale del vostro corpo. Ok, sì. Eh... L'altra cosa che puoi capire è che la minaccia quindi deve essere per forza interna. Sì. Ah, infatti avevo chiesto il discorso tipo dell'autoconservazione che magari sai qualcosa tipo di biologico, dico io, ma ci siamo chiusi dentro qua e iniettato qualcosa per evitare boh degli effetti collaterali. Cioè, sembra assurda come ragionamento però... No, 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 no. Allora, l'unica consapevolezza che puoi raggiungere è che qualcuno vi ha legati qua... Ok. ...perché dovrebbe esserci un quinto libero. Uh. Perché se vi siete legati completamente al lettino, come ha fatto l'ultimo a legarsi da solo, cioè proprio per la fibbia che è, è impossibile. Ok, va bene. Quindi ci deve essere un quinto che vi ha legati qua per un qualche motivo. Sì, anche perché se fossimo stati noi non avremmo usato probabilmente... Il cuoio. Quelle di cuoio, ma avremmo usato quelle dei lettini con comando vocale attivabile dal medico, eccetera. E soprattutto non saremmo vestiti. Esatto. No, quello se l'avessi fatto io. Ce l'hai fatta per un pelo, quindi direi che, siccome hai fatto un successo, direi che ce l'hai fatta con la conseguenza che avendo usato qualcosa di chimico corrosivo, se corrode il cuoio organico di conseguenza ti sei creato un'ustione chimica sulla mano. Assolutamente. Quindi siamo liberi. Allora, sicuramente è libero Nico che vi può agilmente poi liberare gli altri. Provo a spezzare. E esternamente non è difficile liberarvi. No, cercando di rompere questa fialetta per farla andare nelle fibbie, sentite una maledizione. E comincio tipo a scuotere. L'idea è di agitare le braccia per spezzare il cuoio, invece mi agito anche proprio la scuotatura e ho questa tipo virgola a lunga mezzo avambraccio e ancora col segno quasi come se fumasse, tipo quando avarsi l'acido sulla pelle. Scatto in piedi più veloce del previsto, che quasi mi gira la testa e ancora tenendomi il braccio mi avvicino a, io direi a, io sentimamente al pilota. Una buona idea. Prego. 42, devo provarci con una mano o con un braccio solo, senti come brucia, maledizione, e provo a… Vorrei sentire anch'io il tuo dolore, ma non sono capace. Non te lo consiglio, non te lo consiglio, maledizione. E provo a, con una mano, aiutarmi anche con l'altra un po', comunque tenendo la premuta al corpo per cercare di sentire meno male e dislegare 42. Serve un'altra prova? No, 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 l'ho detto, le fibbie sono ostiche per liberarsi da soli, perché sono decisioni grossi, ma esternamente… Dottore, per favore, nel frattempo pensi a cosa posso mettermi qua nel braccio, non posso dicermi andare avanti. Sì, ho già un paio di idee. Ok, quasi mi ha letto nel benissimo. Ho un paio di metodi, ho un paio di metodi. Bene. Basta, poi non ti cura, cioè, sono un paio di idee di metodi. È un paio di idee, vabbè, se so, è tipo… TNT. Tipo il dottor Stone. Tipo il dottor Stone. Si ricordi che il dolore è esso stesso parte del piacere? Io sono quasi attratto, quindi andrei dopo il liberato 42, vado da Romeo ad aiutare lui. Sono quasi attratto da questa cosa, no, in maniera… Viscerale. Vi lascio amoreggiare. Dobbiamo creare un po' di… Glacciarmi in modo da non vedere questa scena. Liberatemi almeno una mano così posso coprirmi gli occhi. A me viene in mente quella scena di quale cartone che fa… Che schifo, mamma e papà si baciano… Più o meno credo quasi ogni cartone che ci sono… Moltissimo. Si baciano. Quindi… Va bene. Come… Aspetta, ma vi liberate tutti o no? Sì, sì. Eviterò la scena extra, quella la metteremo nella versione bonus, contenuti bonus. Ok. Beh, mentre che loro appunto vengono liberati, non so cosa fanno, fanno cose, si divertono… Chiediamo la scena bonus. Esatto. Vado a controllare i parametri se la nave si sta… effettivamente… qualcuno la sta guidando, o se sta andando nella giusta direzione, o se non stiamo andando alla deriva. Ok. Vai al solito pannello per i controlli, è un pannello remoto dell'infermeria, ma ti permette in qualche modo di metterti comunicazione col comando centrale. E vedi che ha delle difficoltà perché sembra essere stato danneggiato. Almeno a premere non risponde bene ai comandi. Ok, ok. C'è un modo per bypassarlo, essendo io androide e… avendo magari più conoscenza della nave, o devo proprio nel senso andare da un'altra parte? Puoi sicuramente provare. Faccio una prova, allora. Sì, 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 puoi provare. Dimmi, pilota in questo caso ci rientra come un dado in più o… Direi più androide come… Androide. Ok. Che con la tecnologia sei affine. Allora, quindi sarebbe un di sei, giusto? Due di sei, un di sei di base e uno per ogni… Ok, ok. E se qualcuno ti vuole aiutare, ma due sono a amoreggiare e uno deve essere ancora liberato, quindi… Ok, quindi metto due di sei… Ma lì non mi stanno cagando mezzo, c'è proprio lì un… No! No, dopo io ti libero in una maniera molto sensuale. No, dopo… No, dopo… No, dopo… Ma basta… Basta slacciare… Due e quattro. Ok, però in questo caso sarebbe una cosa di laser questa roba qua, non sarebbe… Quindi hai un successo… È una cosa… È una cosa… Esatto, quindi è solo un successo perché io ho tre… E io ho fatto due e quattro, quindi… Sì… Eh… A meno che non vuoi amoreggiare con lo schermo, non abbiamo chiesto come vuoi interagire col computer… Io l'avrei fatto… Io l'avrei fatto… Fammi vedere i due parti che ti faccio vedere i miei… Eh… Esatto, esatto… Vabbè, oddio, c'è un'intelligenza artificiale in questa nave… Aspetta eh… Qualcuno di intelligente penso di sì… Pari sì, dispari no… Eh, dai, vediamo… No… 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 Ok, allora non c'è nessuna… Non c'è nessuna interazione sentimentale con la nave… No… Semplicemente utilizzo i miei sistemi… Eh… Pseudo… Informatici, biologici… E un borgo… Esatto… E mi metto in contatto con la nave e bypasso quello che è il sistema… Allora… Bypassi il sistema danneggiato… Ma… Non riesci ad arrivare alla plancia di comando, riesci a prendere il controllo dell'infermeria… Quello lo riesce a riparare… Ah… E dice che ci sono la capsula medica occupata… Sì… E i vostri quattro lettini… Ah, ok… E dice anche chi c'è all'interno della capsula… Vabbè, a partire… Sì… Vedi che c'è il nome del capitano… Ah, ok… Domanda… A questo punto però mi sorge il dubbio… Noi quanti siamo come equipaggio su questa nave? Ma… Facciamo così… Sì… Siamo in 26… Ah, ok… Quindi la questione è che sì, il capitano è nella capsula medica, noi siamo stati legati… Ma vuol dire che ce ne sono altri… Almeno 20… Allora… 27… A parte il tiro a cavolo… Ce ne sono… 27 quelle di fasce di comando alte… Poi ovviamente ci sono tutti quelli che servono per far funzionare la nave… Che saranno un'altra ventina, trentina di persone… Più ci sono tutti quelli che sono i pazienti… Ah… Ok… Ok… E il personale medico… Ok… Quindi è cecciosa come nave… Eh beh… Comunque è una nave medica d'emergenza… Sì… Viene venite spediti per questioni importanti di sistemi remoti o per situazioni d'emergenza… Se c'è da fare un'evacuazione di massa per salvare la popolazione, per arrestare un'epidemia, per intervenire… Ma soprattutto cosa stavamo facendo? Cioè… Nel senso non è che magari sapendo quello che si stava facendo… Capiamo… Perché… Avete il problema che non ve lo ricordate… Esatto… Tutte le volte che voi provate a ricordare che cavolo è successo… Ok… Avete un cerchio alla testa, un foglio bianco… Ok… Amnesia… Dottore… Mi dica la risposta… Sarebbe carino se oltre a effettuare dei movimenti di attrito con TNT… Che non vorrei ricordarle che potrebbe provocare delle reazioni a catena pericolose… Sarei molto grato alla sua persona se togliesse anche a me le cinghie… No ma l'avevo detto prima che l'avrei fatto in maniera molto sensuale ma l'avrei già… L'avrei fatto… Eh sì ma io la vedo signor Dottore che è un po' distratto… No… No… Non le ha slacciate… Si è avvicinato… Ha fatto attrito ma non ha slacciato… No va bene allora… Hai ragione… Avete ragione… Hai… Hai… Sì… Si fa così… Boh… Vorrei essere un po' arrogante intervenire da una mano a farlo velocemente… Solo che ti dico… Sono tre cinghie facili da lasciare… Attenzione… Questo è il modello PIS… Il modello PIS si fa prima… Se tu fai leva qui… Guarda… Ti faccio vedere… Mostro una maestriale l'uso di queste cinghie… Ok… BDSM… Importante… Aiuto… Lei… Ancora devo capire esattamente a chi ha dato l'abilitazione… Da chi le è arrivata l'abilitazione scusi… L'Accademia dell'Amore… Scuola privata immagino… Eh… Sì… Paritaria… Molto paritaria… Sì… Grazie… L'Università della Cinta d'Urione… Quindi… Ecco perché è esperto con le cinghie… Insomma l'avete liberato il povero dottore… Si… Un po' che salta in giro… Va grava… Arzillo dottore… Pacca sulla spalla la cavanacciuola e via… Grazie… Ti fai male tu alla mano peraltro… Ah… Sì… Esatto… Insomma comunque vedete che la capsula medica del dottore… È rocata in questa stanza… Dove ci sono i pannelli scuri… Che all'interno c'è la camera di emergenza… Ah… Io da bravo medico di bordo… Con un po' di coscienza… Mi avvicino alla capsula… La prima cosa che faccio è verificare lo stato di salute del capitano… Allora il dottore… Sì il dottore… Il capitano è in criostasi… Ok… È stato praticamente quasi sospeso… Perché è stato l'ultimo comando inserito… Prima che chi è entrato nella capsula fosse stato messo in criostasi… Quindi quello che capisci è che se l'è auto fatto… Ok… Output della capsula medica… Ci dà indicazioni sullo stato corrente di salute precedente alla criostasi… Cioè nel senso nel momento in cui tu entri… Check up… Sì… Ti dice innanzitutto che è successo 24 ore fa… E ti dice che il capitano aveva dei livelli di neurotrasmettitori altissimi… Quindi era come in uno stato di euforia… Ma al contempo aveva anche livelli altissimi di neurotrasmettitori della stanchezza… Quindi GABA e simili… Stavano salendo alle stelle anche quelle… Che avrebbe causato uno shock all'interno del sistema… Ok… 42… Ma… I tuoi banchi di memoria… Hanno anche i tuoi un buco… Un buco precedente al… Al risveglio… Abbiamo aperto 42… 42… Mi sa che ha qualcosa che non va… Vedi che sta arremettando… No no… Vedete che l'ultima volta che si è connessa al pannello… In qualche maniera è rimasto frizzato… E ci sta mettendo un po' prima di riavviarsi… Il sistema potrebbe avere dei problemi… Se vuoi capire di più di quello che sta succedendo… Mi puoi fare una prova… Visto che siete entrambi androidi se vuoi… Ma… Da medico… Sia per creature di carne che per androidi… Visto la reazione di 42… Io mi prendo un firewall… Da mettere tra me e 42… In modo da non rischiare di finire anche io… In blocco… Nel caso le fosse capitato qualcosa… Preso dalla console centrale… Quindi… Dunque… Sarebbe un di sé… Più un di sé perché sono android… Più un di sé perché sono medico… Giusto? Sì… Fatemi cambiare nome perché mi dà fastidio dice roller… Or dunque… Arriviamo… E che cappiorina… 5… Cacchio… Hai fatto due successi e un laser infillings… Wow… Due successi extra… Come due successi extra… Eh beh… Ho fatto due successi… Due e uno… Hai fatto… Hai fatto un ottimo lavoro… Eh ma non c'è il critico… C'è il critico… No… Stava per culà… Ah fanculo… Grazie… Manto vai… Descrivi te… Dimmi tu… Come ti riesce bene la cosa… A questo punto… Fai te e narrate… Qual è la tua domanda… Allora… Ovviamente… Ovviamente… La mia… La connessione con 42 è più semplice… Cioè… L'analisi di come sta 42 è molto più semplice rispetto a… A quella che potrei fare con un essere di carne… Semplicemente perché abbiamo degli spinotti specifici per la connessione diretta… E per fare l'analisi del log… Quindi posso verificare istantaneamente cosa gli è… È… L'è… Successo… O lì… Lì… L'ho… E soprattutto in che status si trova al momento… Se è in stand-by… Se sta elaborando… Se… Per caso semplicemente non sta… Ha chiuso gli output… E… Esterni… E quindi… Non ci sta… Non ci può cagare… E allo stesso tempo… Visto che lei è connessa al sistema… Io ho di mezzo un firewall… Per proteggermi da lei… ma lei stessa è un firewall che può funzionare nei confronti del sistema generale quindi posso accedere alla banca dati del sistema con una doppia protezione quindi da fratello androide ti sei avvicinato e hai fatto una grandissima prova con questi due buoni successi per cui capisci che 42 è rimasto in qualche modo quasi vittima di una contaminazione esterna, informatica ovviamente che stava per entrare nei suoi circuiti perché il firewall che te avevi generato lo utilizzi immediatamente come contro firewall per questo virus che si stava scaricando dentro 42 la stacchi dallo schermo e riesci in questo modo a salvare 42 visto che avevi fatto anche laser infilling ti rimane una bellissima domanda da farmi sulla situazione più che una domanda sulla situazione posso suggerire e poi mi puoi dire tu no sì che nella connessione con 42 l'unione dei banchi di memoria ha permesso di sovrapporre i dati mancanti e ricostruire parzialmente degli elementi che di qui al momento in singolo non ci ricordavamo come una specie di defragmentazione esatto mi sto immaginando più che va bene nerd dentro di me come un ride come una specie di defragmentazione non sono quel tipo di nerd no anche figure quando esco io con la chimica allora ricomponete queste due scene principalmente l'allarme rosso è partito internamente non è partito dal capitano ma voi che vi trovavate tutti qua per caso insieme al capitano per discutere della situazione del pianeta su cui siete in orbita geostazionaria perché dovevate svolgere una missione di recupero è partito l'allarme rosso il capitano è uscito un momento per capire qual era la situazione perché ha chiesto un rapporto al ponte e nessuno rispondeva se non delle urla del vociare non si capiva bene qual era la situazione è rientrato pochi minuti dopo lo vedevate emaciato sudato non stava bene ha parlato di una certa contaminazione ha bloccato il laboratorio e si è vi ha legato sui lettini non avete capito perché ma il vostro farvi legare era consensuale essendo l'ultimo siccome non avevo modo di auto legarsi come vi avevo detto si è messo in criostasi quindi abbiamo la risposta esatto è quella che si sta connettendo la risposta quindi le sue conclusioni in realtà tutto questo voi l'avete visto in degli ologrammi proiettati a schermo in incrocio tra me e 42 certo erano un po' saltellanti perché i manchi di memoria non andavano benissimo però più o meno c'erano con l'immaginazione abbiamo riempito i vuoti sì negli ologrammi avete visto tutta questa scena quindi siete tutti consapevoli di quello più o meno che è successo perché non siete riusciti alla grandissima a capire cosa è successo però almeno avete ricostruito i fatti ma se liberiamo il capitano non è che ci sia il pericolo che se è stato contaminato da qualcosa cioè il modo in cui la ciara che aveva insomma non rischiamo di fare peggio a liberarlo o almeno dottore non è che si possa liberare e avere qualcosa in caso di necessità già pronto no? lo possiamo perciò gli butto un po' di carbonato in bocca e quello disinfetta tutto le ferite e tutto quanto TNT lasci a noi esperti ma io di solito curo i pazienti con l'amore e non esiste medicina migliore l'omeopatia? sì la critica dell'amore è ancora più naturale l'altro dovete sapere che Romeo usa solo i comandi vocali e quello che fa perché convince il computer a fare quello che vuole lui perché anche il computer si sdegna a eseguire comandi no perché il computer non prova l'amore è un computer moderno non è un computer bacchettone come te è un computer asterisco è un asterisco computer è un vi odio ok ok mi sono anche perso con preoccupazione sì volevate chiedere di liberare il capitano mi sarebbe il caso per la porta non mi sembra l'idea migliore no o facciamo saltare tutto ma moriremo tutti almeno la cosa più seccante di tutto questo è che non possiamo accedere alla spa alla sauna esatto io mi avvicino al monitor che riporta i dati della capsula criogenica sì in realtà voglio fare voglio chiedere al computer un'analisi medica dei dati e di suggerire un rimedio farmacologico se noi dovessimo farlo uscire in questo momento dalla criostasi per stabilizzare il suo organismo e quindi mi avvicino al monitor e dico computer per favore fai un'analisi di livello 3 dell'organismo del capitano e suggerisci trattamento farmacologico per stabilizzare i suoi valori in tutto questo aspetta questa era la risposta del computer il buon Romeo sta facendo questi discorsi con il sintetizzatore vocale ma io dietro con il tablet il tablet e il computer sto digitando l'input che lui stava dando vocalmente in maniera lineare in maniera tale che il computer non sbagli mi stai dando una mano quindi sì esattamente abbassa la percentuale di produzione del viagra e alza quella di un antidoto il viagra è un eccezionale farmaco per il cuore ah beh sì sì ma non mi serve per la mente in questo momento dipende il cuore è tutto cioè voglio dire controlla tutto il resto dell'organismo però senti comunque la prova di laser perché sto convincendo il monitor sto convincendo il computer a fare quello che voglio io vuole essere empatico con la convincendo lo sto convincendo perché non c'è nessuna intelligenza artificiale altrimenti si sarebbe già innamorata di te eh sì io direi che per democrazia abbiamo votato che devo veramente dire di sì a questo tiro prego scusa perché mi stai se dovevamo giocare a Star Trek dovevi dirvelo perché allora avrei fatto un laser 5 io cioè avrei fatto era laser and feelings io non ti ho detto e io sono feelings mi devi dare l'opportunità di usare i feelings sì sì per l'amore del cielo per fare un'analisi vai vai convinci il computer con amare allora io direi che è un di sei un di sei perché sono dottore e un di sei perché Manto mi aiuta sì alieno non c'è altro cazzo vai no aspetta aspetta ma 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 in realtà sono due successi eh ah no sì sono tre successi sono tre successi eh sì perché sei due è due è tutto ed è feeding yeah mi strusci un po' anche sul monitor che ha dei sensori hai sensori con il capezzo non dire queste cose dai no hai sensori ASMR sul microfono batto un po' con il tentacolo un po' sul microfono cosa ho fatto? io non so spiegarmi perché il computer ti dà una risposta ma quello che ottieni perché hai feeling perché i sentimenti non si possono spiegare no va bene perché dietro la risposta scrive gli input corretti va bene chiami così perché sei lì solo per dare la risposta esatto eh aspetta mi sono perso voglio che te ho provato in una puntata di Green Hawks quella volta vuoi vuoi sapere vuoi sapere perché l'analisi di livello 3 che cosa ti dice? no voglio un trattamento farmacologico per poterlo stabilizzare se lo dovessimo estrarre dalla criostasi ok allora quello che sta facendo comunque è un successo critico quindi tu capisci che all'interno del suo corpo c'è un organismo esterno che sta innalzando i livelli di serotonina e innalzando i livelli del GABA quindi tecnicamente sta mandando a 3000 l'euforia del cervello ma nel farlo lo sta stressando talmente tanto che diventerebbe una specie di schizofrenico portandolo poi anche all'arresto cardiaco perché se fossimo in Star Trek sarebbe facile perché basterebbe usare il teletrasporto che ha i biofiltri e che tagliano fuori tutti gli organismi no perché questo questo è un retrovirus tu pensi che io non abbia spiegato un retrovirus? no è un retrovirus quindi vorrei far notare che queste portate non stanno uscendo da me quelle più pesanti all'utete e meno male che il grande capo aveva detto di modellare i metalli ultimamente siamo stati bravissimi questa sarà un po' sbragona il DNA del virus si è fuso col DNA dell'ospite ah ok quindi il teletrasporto non ce la farebbe a discernere per bene quale tratto di DNA sarebbe perché a seconda di dove si è infilato cambia posizione e diventa un macello ma insomma è come giocare una puntata di super quark e si imparano cose nuove bellissime no più che altro c'è Simone che sta continuando a mettere gli termini allusivi uno dietro l'altro e si aspetta che noi non ne cogliamo nessuno no alcune volte cedo e mi dispiace per tutte non ho la presupponezza prenditela come risposta è solo un pelo scientifico la risposta non ha detto niente ci sta scusate neanche 42 eh quindi scusate 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 signore comunque ecco se il teletrasporto e basta non funzionerebbe dovresti lavorarci un attimo col computer insieme alla risposta per estrapolare un protocollo di teletrasporto non è una cosa da 10 secondi ma domanda alla cosa farmacologica l'hai trovata se vuoi svegliare il capitano hai le iniezioni da fargli con l'ipospray per stabilizzare dimmi TNT TNT sta pensando che di tutte queste cose non ci capisce poco niente però guarda con desiderio una una delle condutture di areazione dicendo mi ricorda quando io andavo nelle miniere dell'asteroide MG75,5 asterisco YZ potrei infilarmi là e fare un giro per la nave se c'è dei posti che non sono contaminati a vedere se dove potremmo andare oltre a questa stanza sono sicuro che nei condotti ci troveresti anche dei materassini nel senso che Romeo li usa come posti di osservazione il voyerismo non è di problema no si ma vuole vuole solo se c'è se è voluto è troppo passivo se è consensuale comunque nei tubi diciamo dai pannette che sei un po' esploratore che sei di professione sai dove mettere le mani nelle paratie e dove trovare i tubi di Jeffries che conducono all'interno quello che mi frena è la preoccupazione di quando abbiamo preso consapevolezza della contaminazione e del capitano che è stato che si è pseudo auto criogenato è andato in stasi per evitare tutto questo si può avere qualcosa per capire se la condottura sono un pericolo per la salute possiamo sicuramente condurre non ho più il mio uccellino a 74 becchi che mi fischietta la melodia nel caso di aria impura 74 non erano sostenibili ve l'ho sempre detto TNT infatti schiattavano molto spesso 74 era un altro android l'ultimo è morto perché si è beccato da solo si è suonato il 32esimo becco dopo è partito il 45esimo il 63esimo e si è appunto da solo poverino come i trickie che dicono dove hai la macchia quando scoprirete il tema della puntata ok ok sto dando il peggio di me ok è tutto in sessione va benissimo è perfetto a parte riscarsi potrei dottore potrei c'è qualcosa in questa stanza che potrebbe aiutare vorrei rendermi utile oltre a vedere probabilmente un momento un momento sto cercando la risposta anche due siete qua fate per favore conducete un'analisi ambientale sui tubi di Jefferies o a e per vedere se ci sono contaminanti biocontaminanti usate i sensori dentro a ho detto che stavo cercando la risposta e poi vi ho trovato a e ne ho trovato a e poi un tasto era prego di eseguire un'analisi ambientale sull'atmosfera nei tubi di Jefferies c'è scritto sul pannello pannello e estrusione un tentacolo sul pannello computer del pannello tu che mi sei amico non deve chiederglielo le ho già dato la risposta computer del pannello leggimi i valori ambientali del tubo di Jefferies a 18 a e presumo dai il pannello mi leggerà voglio dire vai tira anche per farmi leggere eh sì i sentimenti i sentimenti devo vedere i tuoi sentimenti fammelo vedere tu allora uno per la prova uno perché sto usando i miei tentacoli per strusciarmi sul pannello va bene li hai nominati ho fatto un laser in feelings e un 6 quindi un successo e un laser in feeling wow oh una concepibilità particolare so che sta succedendo dunque essendo cioè visto io mi sono reso conto che anche 42 era stata in qualche modo influenzata da qualcosa che stava all'esterno quindi non si tratta solo di una minaccia di tipo biologico ma ma di un qualche tipo di minaccia bioingegneristica la la mia domanda è capire si tratta è la stessa minaccia o sono due minacce combinate è la stessa minaccia ah è un nanovirus eh ma il nano no scusa no non la dico questa no non la dico no no non la dico mi censuro da solo avete ragione bravo hai superato la trappola tnt forse forse sono sicuri comunque ma però io ho una mi porterei io mi porterei con voi una maschera forse ti procuro un respiratore che va indossato su tutta la testa praticamente tu apri una cerniera e si collega e poi c'è una palla che metti in bocca giusto quella filtra abbiamo avuto tutti la stessa immagine in testa perfetto questo serve per proteggerti dagli agenti infiltranti mentre questo filtrerà un po' esatto quindi dovrei respirare così in questa voglia perfetto si sta facendo matto sta tipo morendo vorrei fare notare il mio impegno per fare bravo muti il microfono esatto ok io dottore lo sa che mi fido e non sapendo ormai avendo fatto l'abitudine conoscendo che esteticamente hanno una certa tendenza le sue invenzioni i suoi aggeggi lo indosso senza pensarci due volte è un modello della federazione è il modello sm 82 anche il è un vero latex esatto è molto aderente è molto aderente serve per me deve essere pratico che non ti deve dare una sensazione di di vabbè esatto se mi hanno scafando di cosa esatto sulla testa se mi hanno scafando dove stiamo nella sci-fi negli anni 80 è molto utile nelle emissioni anche perché così scivola meglio nelle condutture quindi perfetto se volete ho del lubrificante penso dovrebbe bastare la ringrazio senti che si riaccende l'allarme rosso sta succedendo sta succedendo qualcosa per davvero no no è partito un allarme rosso con scritto l'autodistruzione è stata inserita autodistruzione fra 30 minuti dobbiamo raggiungere la cabina di pilotaggio allora è la cabina di pilotaggio ditemi dove bisogna andare io faccio strane le condotture come le lineere ti piloto io perfetto 40 per ridurre il margine di errore che mi dicono che sia una cosa che vada molto di moda io procederei su più fronti nel senso che se TNT ha prosegue cerca di arrivare in plancia dal condotto noi potremmo provare ad arrivare in plancia tramite altre strade oltre ad aprire la porta potrebbe esserci qualcos'altro ci potrebbero esserci i condotti del vapore della sauna che attraversano i tubi di jeffries sono pieni di vapore che attraversano tutta la nave è tipo una specie ok forse è una cazzata perché non ci sta in una cosa futuristica ma qualcosa tipo la posta pneumatica alla futurama hanno l'email si il concetto di utilizzare del materiale fisico da spedire da una parte all'altra e hanno anche il teletrasporto come le cattorino c'è una puntura di metafrina da qualche parte e arriva la teletrasportano ok hanno il teletrasporto direi è poco trecchiano la posta pneumatica scusate ma io no 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 l'idea ci sta ma te figurati che il dottore ha addirittura il bypass del teletrasporto d'emergenza gli è concesso fare il teletrasporto d'emergenza per motivi ma sa da me quando lavoravo nelle miniare eravamo abituati ancora con le carrucole era una zilla che mi stava con il personale quindi pensavo la risposta 42 la risposta 42 a voi che siete pratici che ha di di questi sistemi potreste verificare se è possibile eseguire un teletrasporto da qui direttamente su in plancia certo posso verificarlo ci combiniamo sai già la risposta esatto 42 esatto manca solo 42 se qualcuno ha attivato l'autodistruzione si fa solo dalla plancia e lo può fare o il comandante o il vice comandante e il vice comandante daci due info perché ovviamente sappiamo chi è quindi chi è ma vabbè il vice comandante può avere si chiama McKenzie ma non è quello il problema il problema è che se hanno attivato l'autodistruzione il teletrasporto è disabilitato proprio per evitare il sabotaggio dell'autodistruzione quindi non resta che andare per le condutture o come le chiamate voi super esperti o per le porte normali le porte normali non sono bloccate al massimo è chiusa la plancia di comando io cercherei di combinare una cosa di combinare più cose un'altra cosa in più io posso cercare di risvegliare il capitano e stabilizzarlo e fargli interrompere la procedura di autodistruzione mentre TNT prosegue verso la plancia e cosa possiamo fare? Nel caso il comandante non potesse venire fino in plancia io insieme a 42 potremmo comunque tramite la comunicazione remota eseguire i comandi che ci dirà il comandante in caso di bisogno e non so questa cosa l'ho letta in un libro non so se succede veramente nella nave può succedere veramente può succedere io guardo con dubbio e 42 può succedere ok mi sale l'autostima perché ho imbroccato qualcosa quindi può succedere anche il nome del dottore che c'era prima della risposta non l'ho conosciuto la risposta dopo questa ti avviene con dove c'è se esatto e chiudi il portellone dietro mi chiudo dentro basta tipo i bambini che vanno nell'angolo a girare no siccome non c'è tempo e anche il suono della sirena della sirena dell'allarme comincia a essere fastidioso quindi direi guardo 42 domando possiamo andare non cosa dici ci do una mano ok voi dottori si romeo è la risposta non facciamo proviamo a mettere in piedi il capitano e a fare questo non riesco a stare con le mani in mano facciamolo ok darò una mano al buon dottore a trovare una risposta io direi facciamolo l'ho trovato io direi che con facciamolo io mi lancio dentro la condottura mi dà una carica che dai però mi sa che prima io devo fare la prova per vedere se ti riesco ad aiutare effettivamente dandoti un di sei perché qua dice se vuoi aiutare qualcuno devi provare e se hai successo allora gli dai un di sei quindi io eh sì infatti quindi io ti aiuto dandoti dei consigli e rafforzando la tua autostima quindi uso il figlio hai veramente ragione grazie dell'errato infatti prima non l'abbiamo usato ha usato di un dato come lo aiuti e gli davi direttamente sì esatto di sei allora vediamo un po' potrebbe essere che le regole di laser e felix che sono due potrebbe essere che il 42 ha la mappa della condottura dei condotti quindi magari la strada giusta anche solo tipo la strada giusta potrebbe essere esatto sì sì beh o come androide o come pilota ti do cioè faccio il tiro di dado più uso il dado base vediamo cosa se riesco a fare è successo dato che è legato al feeling certo quindi continuiamo 5 e 6 5 e 6 devi fare più basso o con feeling no feeling sopra il numero quindi io ho tre ho fatto due successi quindi direi che perfetto con feeling sopra il numero sì e laser sotto sì 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 quindi ti do il di sei sì ottimo grazie e io per districarmi dai condotti da tutto il dedalo di tubi secondo me beh pericoloso ci sta e a questo punto anche esploratore secondo me sì 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 quindi e lo fai con beh con 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 la con la con la logica beh sì con cioè con laser ragionando perché entro tipo in modalità lavoro tra virgolette cioè mi medesimo in dove un lavoro di esplorazione che magari facevo magari che sono degli avamposti che andava a vedere nuovi se c'erano nuovi giacimenti o altro quindi due quindi due più uno quindi tre di sei quattro quattro perché in questo caso sei esperto più ti stai dando una mano più il tiro base giusto quindi che devo fare meno di quattro devi fare meno di due successi due successi puliti proprio allora successo quindi ti riesce ad avventurarti nei tubi di jeffries e a direzionarti in maniera corretta ok quindi ci vorrà un pochino perché non è un turbo ascensore no infatti diciamo un attimo lo stacco di TNT di James che comincia seguendo tipo voce fuori campo 42 che gli spiega e gira di qua gira di là occhio lì e così via i punti precari eccetera e si avvia nel labirinto nel transponder che fa acqua fuoco 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 ogni tanto qualche craniata però vabbè il nostro tricorder il nostro tricorder dice acqua acqua fuoco fuoco ok è stato deciso a livello interplanetario che è il sistema migliore era una citazione da Futurama ok quindi voi altri nel frattempo mentre lui decide di avventurarsi in YouTube di Jeffries e ci mette un po' a salire sì noi la risposta prepari il preparato che è ancora da preparare è già pronto hai già preparato quindi certo avevo già la risposta sì anch'io per fortuna che ho lei la risposta mi sembra che stiamo cazzeggiando un po' tanto procediamo lei che sta cazzeggiando mentre sta cazzeggiando io sto già inviando i comandi per l'apertura della criostasi allora lei lei si apropin qui a scongelare il capitano e io lo siringo la procedura è stata avviata e si prega di seguire le indicazioni a schermo segui le freccette esatto avanti 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 accetta avanti 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 accetta lo sento stai firmando la privacy per il capitano schermo mostrami le freccette e quindi abbiamo la procedura per lo scongiuramento e l'attivazione dell'iniezione dei farmaci poi è tante cose io non ho memoria in star trek di siringhe perché c'è tutto quanto quelle ipodermiche c'erano le siringhe ipodermiche quello che viene chiamato ipospray in realtà è una micro siringa che viene perché non vedevo mai aghi in tutto quanto in tutto il trek non si vedeva mai perché è tipo lago da insulina poi probabilmente è anche di lunghezza variabile nel senso che te lo lasciano immaginare dai ciao nerd trecchiani se avete qualcosa da dire in merito siete ben accetti parlatene con Chris vedete che il capitano si scongela viene cioè viene riportato allo stato naturale gli date subito l'ipospray e vedete che riapre gli occhi e abbastanza è come un drogato dopo un caffè quando uno ha preso una sborna allucinante in discoteca quando uno ha preso una sborna allucinante in discoteca e si riprende ha tutte le venature rosse negli occhi vedete pulsarlo vedete che respira affannosamente ma è vivo capitano è ancora molto freddo lasci che la scaldi un po' che la frizioni è mai vicino con una coperta termica forse è più adeguata questa dottore ok e allora l'ho frizione sopra la coperta almeno c'è un c'è un c'è un velo che lo protegge state bene per fortuna certo cosa è successo capitano si sono rivoltati tutti sono tutti impazziti qualcosa ha preso possesso delle loro menti non capisco che diavolo sia successo la testa quindi moriremo tutti vorrei evitarlo sono solo è solo l'equipaggio che si è rivoltato quindi è solo l'equipaggio che deve morire credo che basti eliminare quello che gli sta facendo impazzire la risposta 42 state ancora seguendo le vostre terapie mi sembrate un po' depressi più del solito no no è semplicemente se dobbiamo interrompere quello che sta facendo impazzire quindi dobbiamo sopprimere lei dottore non vedo il nesso causa-effetto è una risposta come un'altra esatto non è la risposta è una risposta come un'altra mi sembra che stiamo cazzeggiando ancora capitano quali erano i sintomi i sintomi erano un grande stato di euforia e perdito di controllo sono riuscito a isolarmi in questa stanza prima che perdessi il controllo della nave non so il resto dell'equipaggio si è salvato ha bandito le bevande energetiche dal dispenser come le avevamo suggerito? no non è stato ancora fatto potrebbe anche essere quello troppe bevande energetiche e le dispenser di caramelle? non ci sono dispenser di caramelle però i distributori automatici sì di bevande quello la risposta mi state dicendo che tutto quanto l'equipaggio ha ha bevuto troppo gatto rade o red cow o red bull sì anche quello o monstra oh no non ci credo che tutto l'equipaggio non è la risposta ma è una risposta volete forse dirmi che i distributori sono stati in qualche modo manomessi avete capito che il problema viene da là? capitano lei sa delle cose che noi non sappiamo forse? no io so solo che l'equipaggio ha perso il senno sono tutti andati in uno stato di euforia sono tutti impazziti sembra quasi una delle droghe del dottor Romeo ma non farebbe effetto su di voi non sono mai riuscito a far trovarne una che abbia effetto su voi androidi vuol dire che qualcuno l'allora don Romeo quel virus che stava elaborando è ancora in isolamento? il virus GHB? ma certo vado a fare il controllo se il virus GHB è ancora sotto sua custodia sono la versione DSM il virus GHB DSM vado a controllare e vado vicino monitor monitor computer dimmi se il virus per favore sii così gentile come è dimmi controlla lo stato del del il virus GDB DSM ok sempre con questi illogico sentimenti ti fai sto tiro ti vorrei ricordare che ogni volta che lui chiede le cose io da dietro computerizzo la sua richiesta perché purtroppo la sintesi vocale non funziona così bene da noi no no è che tu sei la risposta ma non sei la fiducia ah si esatto era il tuo collega che io gradivo di più ok lo stato del del virus che era nelle nelle celle di isolamento non lo so ci sarà nelle non lo so cosa ci possano essere delle sono dei mini campi di forza dove ti è isolato il virus ok sono dei cubi di forza e il tuo buon virus c'è ma noti che c'è stato un accesso non autorizzato perché il tuo virus non è un nano virus ma ma che oh ma che la risposta qualcuno è entrato senza il tuo permesso controlli gli accessi alla alla teca di stasi 7.4 alfa 22 è diventato R2 di 2 no i suoni del sistema non sono i miei ok tanto che non ha fatto immagino tu voglia controllare i sistemi perché comunque non c'è una traccia evidente qualcuno ha cercato di coprire le sue tracce sì no beh ovvio cioè parto dal file di log poi faccio un po' di di accessi su qualsiasi strumento di analisi possibile che io qui abbia portata vai 42 potete aiutare la risposta con la risposta certo posso ben fare 42 funzioni contemporaneamente ho risposto 43 no 42 no mi era venuta subito in mente Esther Ascione della Gialappa del Gialappa Show non so se voi lo guardate l'android Esther Ascione no allora se non conoscete la citazione no salve sono Esther Ascione posso rappresentare 826 espressioni umani no ok se non lo conoscete non lo siamo a posto no beh posso provare a vedere come android se posso fare un'analisi aggiuntiva ok però in questo caso mi sa che è più laser che Fili praticamente mi stai concedendo della RAM in più esatto vediamo quindi sono due dadi due di sei sì tre due almeno uno tre due allora uno una domanda ok perché ho fatto quello uguale quindi gli dai un dato da sei più puoi fare una domanda allora come domanda mentre gli cedo lì un banco di RAM a questo punto mi verrebbe un po' da analizzare se ci sono dei residui di dati su appunto chi ha fatto questa modifica chi ha avuto questo accesso per vedere se non ci sia all'interno lo stesso capitano o Romeo perché appunto potrebbero essere sospetti entrambi per motivi diversi di quelli di carne esatto esatto i biologici giusto i biologici e ti giuro sono due ore che sto cercando di ricordarmi come chiamarle i biologici non mi veniva in mente comunque ricordo che voi siete la risposta 42 non Sky e Net che aspetta dovevamo fare questa qua è la versione però Terminator quella seria la versione seria fare la parte 2 versione seria Sky allora va bene vi chiedo un momento ma anche due tesoro voglio recuperare il nome di una persona che non mi ricordo io non ho la risposta in questo caso evento più unico che raro ma non mi ricordo in ogni caso io do il D6 di aiuto alla risposta sì sì assolutamente il D6 lo dai e trovi che non è il non è il come cavolo si chiama non sono nessuno dei due ad aver avuto l'accesso ai dati ai dati ok ok ma chiunque l'abbia fatto si è firmato cioè firmato ha lasciato una traccia di identificazione che corrisponde a un ID di Matthew ah ok 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 non puoi averlo fatto cioè sei un po' pirla un po' molto bello sei fatto quello che penso io sì eh tremo eh allora quindi a questo punto e scopri anche visto che comunque ha fatto successo e che volevi la risposta eh l'ID di questo Matthew è dell'equipaggio ed è un os dur tron 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 c un osso duro no 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 è un os a questo punto però preparati la battuta anche sull'ata ok eh allora a questo punto io invece ho tre dadonsi perché c'ho l'android eh l'aiuto e il il base noi continuiamo continuiamo a non chiedergli se facciamo tiri da preparato o da esperto ma e quante categorie aggiunti ditemi noi l'abbiamo interpretato così sì eh beh in realtà sta a te definire questa cosa qua noi li stiamo usando come se fossero tratti ma non è così quindi sei tu che devi definire sì tu in questa per fare questa cosa fa tiri da esperto o tiri da preparato noi stiamo giocando un pochino alla no no io l'ho considerato che secondo la vostra professione cosa vi considero esperto preparato perché fa più confà sulla vostra professione no però se ci pensi in finora l'abbiamo giocato come se fossero che ne so i tratti di cotra da mettere in gioco sì giochiamo no ma noi giochiamo tutto così quindi è sempre lo stesso gioco si chiama solo in modo diverso esatto no è che cercano di togliere le pagine perché sanno che oltre alla singola pagina io non ricordo un cazzo quindi va bene ok quindi andiamo di questa idea vediamo un po' quindi io visto che sono andato di laser devo fare meno di quanto ho io avendo 5 sotto al 5 comunque se qua fa una cosa di informatica e lui è androide l'informatica la conosce quindi per me è esperto ha fatto un successo un laser and feeling e un fallimento quindi un successo e un laser and feeling un successo ma un laser and feeling allora ti direi che confermi l'identità della persona che aveva fatto l'accesso ma non ti sembra che abbia le competenze necessarie per fare tutto questo pandemonio ok è un infermiere non un informatico va bene riesco a avere dei dettagli su quando ha effettuato l'accesso ha effettuato l'accesso 2-3 giorni fa ok e da quale terminale è una domanda qual è la soluzione poi con un successo ma quella è la risposta all'unica al senso della vita il ma tra l'altro è che tu vedi che c'è una notifica di accesso tuo a questi dati quindi è stato informato questa persona che hai avuto accesso a questi dati ah ok no avevo capito che anche lui avesse fatto un accesso precedente esatto ha avuto un attimo di scusatemi no 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 era nel senso che questo Matthew è stato informato che la risposta ha effettuato l'accesso a questo margine di memoria io mi giro verso il dottore verso il 42 evidentemente abbiamo un problema di sicurezza su questa nave perché non mi risulta che al personale OS vengano fornite le credenziali per accedere ai terminali a questo livello oppure non è un terreno non è una risorsa OS esatto qual è la soluzione più probabile secondo te 42 è una domanda è una domanda ostica molto ostica potrebbero essere entrambe le cose sia un OS che qualcos'altro ha biclassato esatto anch'io non so cosa significhi ma l'ho letto in un manuale di qualche tempo fa ma non ti ricordi quale? eh no dati inutili mi sono sovrascritti purtroppo computer per favore ho tanto bisogno del tuo aiuto ho un disperato bisogno che tu mi assista senza di te non saprei come fare a trovare la soluzione a questo dilemma come è possibile che un OS abbia potuto accedere a una delle tecche di isolamento a elabora ipotesi per favore ti dà un'ipotesi che non è semplicemente non ci sono solo le OS classiche ma potrebbe ci sono in questo modello di nave gli ologrammi sociosanitari che sono quindi potrebbero essere delle intelligenze artificiali e questa è la risposta ci rubano il lavoro no no cos'è metiucciata GPT no praticamente potrebbero essere in qualche modo evoluti se non ricordo male c'era la serie in cui a un certo punto le realtà virtuali del ponte ologrammi diventavano pervasive per tutta quanta la nave sì però ho un attimo di vuoto era la Voyager ed erano condotte dal dottor Moriarty no un fatto mixone e in Star Trek The Next Generation quando chiedono al computer di generare un ologramma che sapesse affrontare data e allora Moriarty diventa sensiente poi nella Voyager il dottore diventa sensiente piano piano il dottore sì ma c'era anche nella Voyager hai ragione hai pienamente ragione io ho mescolato le cose ma anche nella Voyager c'era qualcosa il manto sta arricciando le sopracciglia no no perché è bello perché tecnicamente vedete cose che colpiscono dei neuroni in ordine casuale nel mio cervello che ricordano qualcosa metterle non nell'ordine presidio con cui state facendo voi è qualcosa che è inconcepibile per me vabbè comunque ecco sì ci sono stati riportati casi nella flotta stellare di ologrammi che diventavano senzienti e vengono utilizzati in questa nave per sopperire alla mancanza di medici e infermieri degli ologrammi sociosanitari nel senso che si occupano dei pazienti e non li vigilano solo tramite un computer ma fanno assistenzialismo tramite proiezioni però deve essere un successo qualcosa perché i dottori sono sempre nella sauna esatto poi sempre festini nella sauna scusami nella sauna nella sauna esatto il linguaggio a bordo di questa astronave si è evoluto aggiungendo delle H in fondo è che sono un alieno ho dei difetti di pronuncia per voi esatto noi lo intendiamo ma in realtà è il suo modo è culturale è proprio anche una conformazione dell'apparato fonetico non volevo fare il culturista me ne sono venute almeno tre di battute su questo guarda quindi vabbè quindi dovremmo fare una trappola per cacciare questa entità questo traditore della nave e poi ucciderlo ma sarà un traditore o sta cercando di curare attraverso un difficile percorso psicosomatico logico non sento amore in quello che sta facendo e soprattutto non possiamo attirarlo qui perché magari lui sa che noi siamo ancora qui e non siamo assoggettati a lui o a quello che ha lasciato in giro quindi dovremmo studiare un altro luogo dove attirarlo e poi lo tortureremo il pontologrammi medici della flotta stellare lui medico della flotta stellare lo tortureremo con l'amore ma quindi mi ricordo che c'è un'autodistruzione in corso esatto anche l'autodistruzione scusami capitano dobbiamo bloccare l'autodistruzione ma non ci sta pensando TNT o farlo solo dal ponte di comando è tre livelli sopra l'infermeria TNT sta andando là esatto possiamo raggiungerlo anche forse se io do il codice per disinserirlo forse è più rapido soprattutto un talga forse abbiamo una comunicazione remota non possiamo il computer non accetta comunicazioni remote durante l'autodistruzione deve essere immesso il codice dalla plancia perché non gli parla con amore probabile capitano non ci ho mai provato sono tornato per capire in questo momento ah la testa abbiamo capito che i sentimenti sono di grande valore faccio un'iniezione al capitano di amore di aria di analgesico perché sento che verrà mal di testa tremendo a breve capitano possiamo lubrificarla e mandarla e portarla dentro al tubo di jeffress no grazie e come ci vuole arrivare alla plancia a piedi eh ma l'aria è contaminata mi dia delle maschere per filtrare l'aria non ha un'altra maschera dottore ne ho tutte quelle che volete ma è sicuro che l'aria sia contaminata ho anche le tute guarda ne ho di vari colore ma non può utilizzare il modello standard della flotta stellare invece che il suo modello alieno no questo è quello nuovo infatti il mio ha quattro arti superiori sul suo pianeta è nuovo no no è approvato approvato dalla federazione stellare va bene ma utilizzeremo le tute della federazione stellare standard in questo momento posso fornirle solo queste ah mannaggia lo sapevo maledetto Romeo tutta in latex esatto c'è quella nera quella fucsia rossa alla fluorescente rossa ma in ogni caso ci sono due braccia pendenti perché ci hanno quattro arti no io ho quella mia ah ok modello custom che c'ha c'ha le alette qua sotto sotto le ascelle le alette bellissime e le frange le frange sto soffrendo dentro bene sta vi state vendendo le tute custom di Romeo con un gran rumore di plastica che scorre sulla pelle ruvida sono materiali high tech la risposta non le indossa perché si rifiuta e prende semplicemente la mascherina standard della flotta ah no qual è il latex nella mia nella mia infermeria c'è solo questa non ce ne sono altre la mascherina latex ferma ferma con la zip sulla mascherina certo Dottor Romeo vorrei ricordarle che sono salito a bordo assieme a lei come assistente ma assieme a lei la strumentazione mi sono portato la mia il grado di amore a suo è inferiore al mio Manto ti prego tirami un dado un dado qualsiasi pari o dispari perché il dispari è nell'altro laboratorio vaffanculo facciamo il pvp ti convinco con i feelings ovviamente è uscito dispari sì o se no facciamo il pvp e ti convinco con i feelings mi giro verso quello che doveva essere il mio armadietto faccio no è il laboratorio a merda sì esatto è il laboratorio a beh la risposta con un po' di bortalco puoi mettere qualsiasi cosa ho una domanda mi piace come è caduta nel lato scuro subito Alice che strano 42 spegni i recorder visivi ok ah ecco cosa non andava non registrare ciò che accadrà da qui in poi spengo subito grazie ok ok quindi vi mettete le tute per la decontaminazione sì esatto o per fare poi la decontaminazione perché è double fast come respiratore c'è il modello quello super efficace ha oppure c'è quello un pochino meno efficace ha io vi consiglierei quello super efficace ha che è questo rosso sferico è assolutamente il più avanzato ha oppure c'è quest'altro brutto con questi due filtri esterni molto ampia scomodo aspetta siamo in Star Trek e c'è i filtri a carbone sì non sono non sono filtri a carbone sono filtri esterni hanno la forma cioè sono due filtri esterni che ovviamente sono solo filtri a carbone sono bio filtri il designer di queste tute era un po' retro odd style era stata una rivocazione storica al dottor Romeo faceva il play good doctor quella però è più da dottor U che Star Trek dovevo fare una scelta ma infatti è un'altra rivocazione storica quindi vi investite di tutto punto e aprite portelloni per avviarvi nel corridoio certo fate un passo fuori la prima cosa che succede è che uno dell'equipaggio vi si avventa incontro urlando e sbraitando e qua chiudiamo la prima sessione di laser and feeling non sappiamo ancora come si chiamerà feeling and feeling chiudiamo la prima di deep feeling e qui monteremo di oh oh laser and feelings ah oh esatto minchia che fatica oh dio mio che cosa è venuto fuori è la rivolta delle os madonna la rivolta delle os bellissimo ma è perché l'ultima cosa che abbiamo giocato era stata la sessione darkness e quindi abbiamo tenuto conservato e poi non abbiamo giocato per quasi un mese anzi per più di un mese e quindi abbiamo caricato a pallettoni a pallettoni l'idiozia l'avete tenuta da parte tu hai capito a cosa è ispirato a questo sì 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 direi anche perché mi ricordo il nome Matthew era il personaggio di Matteo della prima stagione quando fanno il sogno nel mondo di la macchinetta del caffè la macchinetta del caffè dove ci mette gli psicofarmaci ah ok allora mi sembrava che ci fosse una citazione è il riuso con la GHB quando ho detto il nome Matthew ho detto ma porca puta perché sapevo dove venia dovevo tirarla fuori prima o poi a me è perché abbiamo un foglio con tutte un foglio elettronico con tutte le idee e questa è una delle primissime cose uscite anni fa praticamente quando abbiamo cominciato a parlarne a buttare giù delle idee c'era la macchinetta del caffè e finalmente è arrivato il tempo è arrivato il momento in the space ma infatti all'inizio mi sono chiesto ma ci leghiamo a un what if ci stiamo legando a un what if chiaramente non lo sapevo ho immaginato e dico vabbè va bene ci leghiamo bene se non ci leghiamo quel che è ci metteremo qualcosa è la nostra identity no no certo no adesso no smetto perché se no parlo anche domani al lavoro domani c'ho il direttore inglese che viene giù per la festa perché c'è la cena di Natale domani e tutto il giorno c'ho il direttore inglese in ufficio che se no gli parlo così e poi gli piace e vuole un assaggio e lì sei fottuto non hai il borotalco e non ti ritirerà la tuta per i sudori freddi ok bello perché tu non l'hai mai visto questo personaggio io mi sto immaginando la scena è è orribile oh scena non c'è una scena c'è un trattamento al plasil per evitare di vomitare in questo momento Simo sappi che sei diventato mia madre senti non è normale se fai condividi lo schermo di base ti condividi lo schermo dello schermo nello schermo nello schermo nello schermo lo stesso stai diventato mia madre che bello questo momento boom barbadoom css ciao 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 ciao